L'ultimo spettacolo Ci stanno aspettando per l'ultimo spettacolo gli altri Finalmente Ma voi lo sapete che sto cinema è maledetto? Sì Un altro film di paura Sono quelli che ti piacciono, no? Dal forte getto della sua pipì pensavo fossi un uomo che avesse volutamente sbagliato il bagno Ma io devo far rispettare tutti nel mio cinema Perché non rimaniamo dopo? Ma dopo che? Dopo il film Ragazzi comunque secondo me stiamo facendo una cazzata Bello, mi piace Ci stai? Io sì Vabbè, che facciamo adesso? Io ho un'idea Le ragazze si nascondono E i ragazzi le cercano Da questo cinema non esce nessuno vivo Ti prego porta via Infatti non potete uscire E adesso stai a vedere che il film è più brutto della tua vita Buona visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti